Luzza! Luzza! Guardala, 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 guardala. Deve andare a cercare sentieri più difficili. Guardalo lì, guardalo lì. E vinca! Va bene, non è semplice, eh? Questo è un bello fatto. Vai avanti. Va stato. Vai avanti. Qua era il comune di Ardenno, di Puglio. Qua, da qua in poi, è il comune di Ardenno. Ardenno. E poi la cosa è fatta, è il confine. Questa posta qua, è stata qui. E' un bello. Questa posta qua. Grazie a tutti. Allora! Geh da! Geh da! Oh, schöne Handschau! Ragazzi non è semplice! Geh da! Cerato! Geh da! 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 Geh da!